Non intendo parlare, l'ho già dichiarato a diversi suoi colleghi, non se ne abbia male, ma farei una scorrettezza nei confronti dei suoi colleghi retini. Io personalmente al momento non intendo fare dichiarazioni. Mi piace fare i fatti, signora, mi scusi tanto. Può solamente confermarci le ultime... No, non devo dire niente, signora, sull'argomento. Ermanno Pieroni preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione, ma una cosa al momento appare chiara. Dopo le parole del presidente Giorgio Lacava e soprattutto dopo l'uscita di scena di Andrea Stanzione e dei suoi soci, il futuro dell'Arezzo passa dalle mani del vicepresidente. Pieroni da tempo era infatti al lavoro per presentare una controfferta che adesso dovrà diventare un'offerta concreta e che potrebbe essere l'unica sul tavolo di Giorgio Lacava. E' così, ha ora in programma un summit tra le parti, Pieroni, i due imprenditori a lui legati, che voci di corridoio localizzano nelle Marche e l'attuale proprietario. Se ci sarà la possibilità di chiudere dovrà essere fatto in tempi brevi, di tempo infatti ce n'è sempre meno e già in settimana incombono le scadenze. Giovedì è infatti in calendario l'Assemblea dei Soci, all'ordine del giorno l'approvazione della prima trimestrale e l'eventuale ricapitalizzazione. Si tratta di una trimestrale davvero pesante a cui deve seguire l'invio dell'indice di patrimonialità e indebitamento entro il 10 luglio. Entro fine mese scatteranno poi anche i pagamenti per i giocatori che hanno avuto diritto alla cassa integrazione e coperti sino ai 50.000 euro l'ordine di ingaggio. Sopra tale cifra c'è bisogno del famoso accordo. Resta infine aperto il fronte iscrizione e fideiussione di un importo minimo pari a 350.000 euro.